Salve a tutti da Ebitimes Italia, sono Benziano ed oggi quella che abbiamo in prova e che vi mostriamo è la nuova Smart TV di Samsung. Abbiamo il modello ES8000 da 46 pollici. Come potete vedere dal video, la cornice è davvero molto molto sottile e quasi invisibile ed è un oggetto anche da allenamento questa nuova TV, visto il bel design. Ad esempio togliendo il supporto di sotto è possibile metterla, appenderla direttamente al muro e anche così farà il suo effetto. Molto sottile anche di profilo. Con la Smart TV Samsung inventa un modo nuovo di usare la televisione. Penso che a molti di noi sarà capitato di dimenticare di prendere il telecomando mentre siamo comodamente seduti nel divano a guardare un programma televisivo. Bene, per la prima volta con questa TV possiamo fare a meno del telecomando grazie ai comandi vocali e al controllo con i gesti, grazie alla webcam integrata. Infatti la webcam riesce a riconoscere la nostra mano e tramite i movimenti possiamo controllare la televisione. Per accenderla basta dire Ciao Smart TV Ciao Smart TV Bene, questa volta ci ha capito ed ecco che si è accesa senza utilizzare il telecomando. Stiamo in pausa Entriamo direttamente nel reparto Smart Hub che è il reparto multimediale della televisione Una volta avviata la TV se clicchiamo subito su Smart Hub ci metterà qualche secondo in più perché il televisore deve caricare appunto il sistema operativo e il reparto multimediale nel frattempo vi posso dire che la TV ha tre porte USB tre ingressi HDMI un'uscita audio ottica i connettori component una presa LAN e ovviamente ha anche il Wi-Fi integrato per guardare i contenuti in streaming e anche per scaricare le applicazioni. Come possiamo vedere questa è l'interfaccia principale della televisione in cui sono presenti tutte le varie applicazioni assomiglia un pochettino all'interfaccia che oggi abbiamo nei moderni smartphone anche di familiare anche infatti la parola Smart Hub smart si ricollega agli smartphone. Possiamo vedere, dicevo ad esempio il Samsung Apps che funziona un po' come il Play Store di Android o l'App Store di iOS di Apple in cui troviamo tutte le varie applicazioni compatibili con questo televisore. apriamo un gioco ormai diventato davvero un classico per giocare con questo gioco bisogna utilizzare la mano quindi interagire con la TV ecco che sta caricando Togliamo l'audio ecco è un pochettino devo dire scomodo giocare con con questo con questo gioco tramite la mano però è una divertente applicazione sicuramente da far vedere ai propri amici quando quando vengono a farci visita apriamo il primo livello ci fa vedere il video introduttivo ed ecco qui che è davvero molto semplice premere il pugno costitare e lanciare davvero molto bello ripeto funziona un po' scomodo usciamo parlando di applicazioni vi faccio vedere direttamente ritorniamo allo smart hub vi faccio vedere ad esempio l'applicazione di Repubblica TV la abbiamo e possiamo direttamente guardare ciò che trasmette in streaming la Repubblica ovviamente possiamo avere più impostazioni e una e una e differenti tipi di visualizzazione usciamo molto interessante da utilizzare nel proprio salotto è il web browser apriamo l'applicazione in questo caso la stiamo prendendo col comando dei gesti tramite la mano basterà premere il nostro chiudere il pugno per confermare per poter utilizzare bene però la navigazione in internet è necessario collegare una tastiera e un mouse perché attraverso il controllo dei gesti non risulterà comodo utilizzare questo televisione ecco proviamo ad aprire un link ed eccoci qua che il caricamento avviene molto velocemente nel frattempo che leggiamo i nostri contenuti è possibile anche ecco scorrendo basta muovere la mano per scorrere verso sopra o verso sotto e nel frattempo possiamo vedere anche la trasmissione in sovraimpressione così da non perderci niente la navigazione comunque è molto veloce usciamo la tv è anche ovviamente in 3D infatti abbiamo diverse applicazioni che ci permettono di visualizzare contenuti in 3D oltre che i film ad esempio Explore 3D in cui ci sono diversi trailer e vari contenuti ma anche l'applicazione di Youtube che in una tv è molto molto comodo da utilizzare in salotto supporta la visualizzazione dei contenuti in 3D per poter vedere però perfettamente il 3D abbiamo inclusi nella confezione due occhialini due occhialini attivi che dovremo utilizzare eccoci qui questa è l'interfaccia di Youtube in cui è possibile vedere i vari canali ricercare un video o accedere al proprio account o vedere direttamente i trend attualmente su Youtube che ci sono attualmente su Youtube proviamo ad aprire un video qualsiasi ed ecco che in streaming senza alcun problema possiamo visualizzare i nostri video preferiti possiamo cambiare direttamente interagendo dal telecomando possiamo anche mettere mi piace e varie altre azioni mettiamo la pausa ecco già che siamo nella nella tv provate a andare in un altro canale già che siamo nella tv vi faccio vedere come funziona l'interfaccia con i movimenti e l'interfaccia vocale ad esempio se io mi fossi scordato in questo momento del telecomando basterà alzare la mano ed ecco che compaiono i pulsanti e schermo per poter alzare il volume oppure cambiare direttamente il canale o ancora possiamo dire semplicemente ciao smart tv per attivare la funzione vocale ecco che appare il menu di sotto per poter scegliere il comando che più c'è grave volume volume ed ecco che la tv mi capisce volume su allunga muto muto 4 3 2 1 stop adesso siccome abbiamo messo la tv con un volume un po' altino non riusciva a capirci comunque in generale è una funzione molto comoda che sicuramente va perfezionata dal punto di vista del software perché a volte non riesce a capirci bene un'altra funzione molto comoda è la possibilità di andare a interagire con un hard disk esterno per poter vedere i video che abbiamo nell'hard disk oppure le foto la musica o ancora registrare direttamente le trasmissioni tv attraverso la pianificazione delle registrazioni quindi possiamo programmare nell'orario predefinito la registrazione e poi andarlo a ritrovare nella disk proviamo ad aprire un film qualsiasi la tv legge senza alcun problema tutti quasi tutti i formati quasi tutti i formati video scusate sono uscito rientriamo ecco qua davvero una qualità ottima di questo televisore le immagini sono davvero molto realistiche e rendono un'ottima resa cromatica ovviamente sappiamo che Samsung è leader per quanto riguarda la produzione di televisioni quindi anche l'occhio vuole alla sua parte con questa tv non resteremo assolutamente delusi né dal punto di vista del design né dal punto di vista della qualità delle immagini altre applicazioni che abbiamo abbiamo la possibilità di interagire con i social network abbiamo twitter possiamo scaricare anche facebook e inoltre possiamo grazie alla webcam integrata realizzare delle videochiamate tramite l'applicazione Skype questo è tutto per evitare Miss Italia da Graziano Patanè Ciao Smart TV Spanì Sì Grazie a tutti Grazie a tutti.